L'unico episodio da Bubiola di questa partita perché è l'arbitro che non ci è piaciuto se ci dai anche l'audio è un rigore netto mi sembra no ma anche se c'è una parolaccia no ma soprattutto bisogna capire chi è stato perché subito è stato inseguito l'occiolino facciamo un piccolo sondaggio chi è stato a fare il fallo su Lombaiata come ha detto un tifoso in una chart qua dicono Pasquale credo che sia facciamo un applauso a Gabriele che è lì di fortuna sul lavoro Luca non saresti un gran arbitro non so quanti ragazzi sto un fallo di ostruzione di Lombaiata va bene tutto apposta anche subito dopo la partita abbiamo scherzato anche perché in parma non c'era il filmato della cosa ma c'è stato anche qualcosa diciamo di meglio allora entriamo dai